Stop AstraZeneca per chi ha meno di 60 anni e il richiamo sarà con un altro vaccino. La raccomandazione del Comitato Tecnico Scientifico è perentoria, assicura il Governo. La campagna di vaccinazione nelle zone più impervie del Paese. Abbiamo seguito il lavoro di una task force di medici dell'esercito tra i paesi dell'Umbria. L'educazione alimentare è importante per la vita, parole del presidente Mattarella e i bambini nel giorno della prima festa dell'alimentazione celebrata nella tenuta di Castelporziano. Riflettori accesi tra poco allo Stadio Olimpico di Roma per l'inaugurazione degli europei di calcio, azzurri in campo contro la Turchia e tifosi sugli spalti, segno di una stagione di eventi che ricomincia. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione di TV2000. Il Comitato Tecnico Scientifico ha rivalutato le indicazioni sull'uso del vaccino AstraZeneca. Sarà destinato quindi solo agli over 60. Le regioni chiudono gli open day dedicati ai più giovani. Sentiamo Augusto Cantelmi. Stop ad AstraZeneca per chi ha meno di 60 anni. Anche per il richiamo, il vaccino potrà essere somministrato soltanto agli over 60, anche per la seconda dose. Per le altre fasce d'età si ricorre a Pfizer e Moderna. Di riservare il vaccino di AstraZeneca per coloro che abbiano un'età uguale o superiore ai 60 anni. Riservando invece per la fascia sotto i 60 anni la raccomandazione per i vaccini a RNA. Il Comitato Tecnico Scientifico, dopo i recenti casi avversi, ritiene comunque che AstraZeneca resti un vaccino sicuro. Ma il mutato scenario epidemiologico, così come il rapporto per le fasce più basse d'età, tra vantaggi e svantaggi della somministrazione, implica un cambiamento dell'utilizzo di AstraZeneca. La raccomandazione del Comitato viene tradotta dal Governo in modo perentorio. La decisione di non utilizzare più AstraZeneca per gli under 60 richiede comunque una rimodulazione della campagna di vaccinazione. Chiaramente questo avrà qualche minimo impatto sul piano, ma siccome io sono sempre molto una persona che vede positivo, sono sicuro che fra luglio e agosto riusciremo a mitigare, se non a zerare, questo impatto. Dal Comitato Tecnico Scientifico e dal Ministro della Salute comunque viene ribadito che soltanto la campagna vaccinale può sconfiggere il virus. Finora un italiano su due ha ricevuto almeno una dose e circa 40 milioni le somministrazioni effettuate per il 49% della popolazione. L'andamento dell'epidemia continua a dare segnali incoraggianti. 1.901 i nuovi positivi e 69 le vittime del Covid nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività scende allo 0,9%. Nessuna regione e provincia autonoma inoltre supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in ospedale, dati che portano quindi da lunedì mezza Italia in zona bianca. Alle sette regioni già bianche si aggiungeranno quindi Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio, Piemonte, Trento e Puglia. I carabinieri stanno acquisendo tutta la documentazione medica su Camilla. La ragazza che si era vaccinata con AstraZeneca il 25 maggio è morta ieri. Soffriva di una carenza di piastrine a causa di una malattia autoimmune. Cesare Cavoni. Per ora l'unica cosa certa è che la vita di Camilla salverà altre vite. I familiari hanno dato infatti l'assenso all'espianto degli organi di Camilla. Intanto i carabinieri del NAS di Genova stanno acquisendo cartelli cliniche. Tutta la documentazione medica relativa alla sua morte dopo essersi vaccinata con AstraZeneca. Camilla soffriva di piastrinopenia, autoimmune familiare, una malattia caratterizzata dalla drastica riduzione del numero di piastrine e assumeva una doppia terapia ormonale. Dunque ora gli investigatori vogliono capire se le patologie fossero state indicate nella scheda consegnata prima della somministrazione del vaccino il 25 maggio. Tra i documenti che stanno acquisendo i militari anche le relazioni dei dirigenti medici del San Martino. martedì verrà dato l'incarico ai medici legali. La ragazza si era vaccinata nell'asla di residenza dopo un'amnesi vaccinale negativa come riportato nei documenti. Il 3 giugno il primo ingresso in pronto soccorso con cefalea e fotofobia quindi l'attacca cerebrale ed esame neurologico negativi ma il 5 giugno torna in pronto soccorso con deficit motori ad una parte del corpo. L'attacca rivela un'emorragia e subito viene sottoposta ad intervento chirurgico. Dopo la morte di Camilla la procura di Genova ha cambiato il reato con cui era stato aperto il fascicolo che è passato da atti relativi a omicidio colposo carico di ignoti. E per una campagna di vaccinazione sempre più capillare in 10 regioni sono attive più di 40 squadre mediche che hanno l'obiettivo di raggiungere le zone più impervie del paese. Vito De Torre ha seguito il lavoro dell'esercito in Umbria. Seguiamolo. La vicinanza dello Stato, la presenza anche su queste realtà comunque piccole denota come dire la parte più buona e vera dell'Italia. Siamo a Polino, paese di montagna in provincia di Terni. 217 anime. L'esercito italiano punta a vaccinare tutti gli abitanti in due giorni. L'ultima a ricevere il vaccino sarà una nonnina di 101 anni. il sindaco fa strada per raggiungere la casa dell'anziana. Questa donna dice di 101 anni. Signora, come sta? Prego, prego. Buongiorno, permesso. Mentre gli infermieri preparano la dose da iniettare la dottoressa si accerta delle condizioni di salute della signora centenaria. È tutto pronto per la vaccinazione. Pronta? Sì, sì. Eccoloci qua. Pizzichetto. Andiamo via. Non mi ha fatto niente. Io gli dico sempre, madonna mia, fammi la campagna cent'anni e poi non mi fanno morire più. Da Polino ci spostiamo a Monteleone di Spoleto, distante 25 chilometri, circa un'ora di viaggio lungo le strade di montagna. Qui i militari hanno allestito in questa palestra comunale un mini-hub vaccinale, un modo per rendere più capillare la campagna di vaccinazione e raggiungere i paesi lontani dai grandi centri. Noi veniamo qui con i vaccini e vacciniamo tutta la popolazione a tappeto che vuole vaccinarsi, ovviamente, che è volontaria. Quindi in accordo con le autorità locali, noi stiamo qui due o tre giorni finché sono tutti vaccinati. Spesso ragazzini con i genitori, appunto, quindi famiglie intere che si sono vaccinate. Questa è la cosa che mi ha colpito maggiormente. E nel Regno Unito sono 42 le vittime della variante indiana del Covid. Di queste 12 persone avevano ricevuto entrambe le dosi di vaccino. La variante indiana, secondo gli esperti, ha un tasso di diffusione più elevato di altre mutazioni. Maurizio Dischino. 42 persone in Inghilterra sono morte a causa della variante Delta del Covid, segnalata per la prima volta in India. Tra di esse, 12 erano state vaccinate con doppia dose da almeno 14 giorni. Sette avevano ricevuto la prima dose da oltre 21 giorni e 23 persone non erano vaccinate. I dati diffusi oggi da Public Health England fanno riflettere la Gran Bretagna sugli effetti della variante Delta, la quale in settimana è stata riscontrata in 42.323 persone, e cioè nel 90% delle nuove infezioni. In particolare, 39.061 in Inghilterra, 3.035 in Scozia, 184 nel Galles e 43 nell'Irlanda del Nord. Secondo la dottoressa Jenny Harris, direttrice dell'Agenzia per la Sicurezza Sanitaria del Regno Unito, i dati mostrano che la variante Delta è più contagiosa della variante Alpha, cioè la mutazione del coronavirus individuata la prima volta nella regione britannica del Kent e inizialmente denominata variante inglese. Pertanto ha raccomandato di seguire le indicazioni sulla salute pubblica che non sono mai cambiate, vaccinarsi, lavorare da casa quando possibile e igienizzarsi sempre. Nonostante la campagna vaccinale sia arrivata a 70 milioni di dosi somministrate, da quattro settimane la Gran Bretagna sta registrando un aumento di casi di coronavirus, proprio a causa della variante Delta. L'ultimo bilancio quotidiano è di 8.125 nuovi casi, 700 in più rispetto al giorno precedente, e 17 decessi. Con 4 milioni e mezzo di contagiati e 128 mila morti, la Gran Bretagna è il settimo paese al mondo più colpito dalla pandemia. Rimaniamo nel Regno Unito, perché al G7 in Cornovaglia è stata rilanciata la sfida dell'Occidente alla Cina, chiesta una nuova indagine dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sulle origini della pandemia e un miliardo di vaccini poi saranno donati a paesi più poveri per azzerare il virus entro il 2022. E il governo italiano pensa invece di far tornare il redditometro. Il Ministero dell'Economia avvia quindi il confronto sul decreto per ricostruire la capacità contributiva degli italiani dalle spese per il mutuo a quelle per l'auto. Luigi Ferraiolo. A volte ritornano anche nella pubblica amministrazione e a maggior ragione nel fisco. Il Dipartimento per le Finanze del MEF ha avviato le consultazioni per far ripartire il redditometro, un sistema automatico di controllo tra i consumi effettuati da un cittadino e il suo reddito dichiarato. Se i consumi sono troppo alti rispetto al reddito presunto, oltre il 20% di scostamento, scatta il controllo. Se funzionasse sarebbe una rivoluzione copernicana per il fisco italiano, perché da tempo è ormai chiaro che un sistema tributario efficiente colpisce i consumi prima di tutto se vuole recuperare la grande massa di evasione e delusione che caratterizza il nostro paese. Ma una nota di pessimismo è d'obbligo, perché in questi ultimi 30 anni il redditometro non ha mai funzionato. Ha fatto la sua comparsa formale la prima volta nel 1991, anche se di uno strumento che misurasse i consumi per presumere il reddito si era già parlato negli anni 70, ispirandosi alle verifiche fiscali infernali degli ispettori dei tributi americani. Infernali perché durissime. Non ha funzionato per mille motivi, nemmeno quando Mario Monti mandò la finanza a Cortina d'Ampezzo a Natale del 2012. Però forse nell'era del denaro elettronico sarà diverso. Nel nuovo redditometro ci saranno 55 diverse tipologie di famiglie e nel paniere osservato ci saranno i consumi ordinari, ma anche quelli di high-tech o la cura di un cavallo. Ma è ancora troppo presto per individuare tutti gli indicatori. Ne vedremo delle belle. I dati stat del mercato del lavoro adesso. Nel primo trimestre del 2021 il numero di occupati è calato di 243.000 unità all'1,1% in meno rispetto al trimestre precedente e quasi il 4% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il tasso di disoccupazione è salito al 10,4%. Il caso di Saman adesso con la cronaca. La ragazza pakistana scomparsa nel Reggiano, il cugino interrogato dagli inquirenti si dice estraneo alle accuse. Non ho nulla a che fare con la sua scomparsa, avrebbe detto durante l'interrogatorio di garanzia in modo spontaneo e avvalendosi poi della facoltà di non rispondere. Più di un italiano su tre sogna un figlio agricoltore. Lo dice un'indagine della Col di Retti diffusa oggi in occasione della prima festa dell'educazione alimentare che si è svolta nella tenuta del Quirinale di Castelporziano alla presenza del Sergio Mattarella, del presidente Sergio Mattarella. C'era per noi Luca Licata. È un'occasione per sottolineare quanto sia importante per il nostro futuro, ripeto, per la nostra vita, un impegno adeguato, concreto, di grande riflessione sull'educazione alimentare. Si rivolge ai ragazzi, Mattarella lo fa dal palco della tenuta presidenziale di Castelporziano dove oggi centinaia di giovanissimi studenti sono giunti da tutte le scuole d'Italia per trascorrere una giornata all'aperto in compagnia degli animali Nella residenza, infatti, è stata inaugurata la prima fattoria didattica. Mi piace molto stare con gli animali perché mi dà un senso di felicità. Carrettarli, tutto è troppo bello. Abbiamo visto i cavalli, le mucche, i conigli, le oche. Abbiamo visto delle piante, dei animali, abbiamo coltivato. Abbiamo creato una grande fattoria con gli animali, con i laboratori per la trasformazione. Tema della giornata organizzata da Coldiretti, quello dell'educazione alimentare nelle scuole. Un bambino su tre soffre di obesità e avvicinandoci al periodo estivo, mai come in questo momento, le fattorie didattiche possono giocare un ruolo centrale. Cosa stai facendo? Sto impastando le tagliatelle. Prima devi fare una monticella con la farina e poi ci metti le uova. E poi la stendi con il mantello. Mangiare bene e sano, l'obiettivo dunque educare fin da piccoli attraverso laboratori di cucina, riscoprendo i prodotti della terra, curando l'orto. Pubblicato oggi e approvato da Papa Francesco il decreto del di Castero Vaticano, laici, famiglia e vita. Le nuove regole a cui dovranno attenersi tutte le associazioni ecclesiali riconosciute dalla Santa Sede le vediamo con Nicola Ferrante. Più rappresentatività, maggior ricambio nei ruoli chiave delle associazioni per evitare personalismi, accentramento di funzioni o addirittura violazioni e abusi. Lo prevede il decreto del di Castero Vaticano, laici, famiglia e vita. Pubblicato oggi e approvato dal Papa. Inserite nuove regole a cui tutte le associazioni ecclesiali di fedeli riconosciute dalla Santa Sede dovranno attenersi per fermare, si legge nel testo, l'autoreferenzialità e promuovere sinodalità e spirito di servizio. Fra le norme previste è la durata dei mandati, quelli nell'organo centrale di governo massimo 5 anni, stessa persona nello stesso incarico massimo 10 anni consecutivi. Rielezione possibile, ma dopo uno stop di almeno un mandato, cioè 5 anni. Il di Castero precisa di aver osservato oltre 100 associazioni riscontrando pratiche assai diversificate che hanno suggerito dunque l'adozione del nuovo decreto. Diverso il caso del moderatore e il coordinatore delle associazioni può essere eletto senza alcuna interruzione dopo un altro incarico centrale e restare in carica massimo 10 anni. Invece, se è eletto ad altro incarico centrale, dovrà fermarsi per almeno due mandati, cioè 10 anni. Deroga per i fondatori, perché svolgono un ruolo chiave, spiega il decreto, e per questo il di Castero concede stabilità ai loro incarichi. Norme in vigore fra tre mesi, mentre quelle associazioni in cui siano stati conferiti incarichi che hanno già superato o stanno per superare i nuovi limiti previsti, dovranno provvedere al rinnovo delle cariche tramite lezione con la partecipazione di tutti gli associati entro due anni. E giriamo pagina perché ormai si respira aria di europei, manca poco, accendiamo quindi i riflettori questa sera sullo Stadio Olimpico di Roma, dove ad inaugurare la competizione sarà proprio la sfida tra la nostra nazionale e la Turchia. Sugli spalti questa sera ci sarà anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e con lui sono quasi 16 mila i tifosi ammessi ad entrare allo stadio per le regole anti-Covid, un quarto della capienza, ma comunque segno di una stagione di eventi che ricomincia. Sentiamo le loro voci. La mia prima partita di calcio in assoluto e sono qui con tutta la famiglia perché penso che sia una bella occasione, sia da far vivere ai bambini e spero che se la ricorderanno. È un grande partita, un grande partita. Turchia-Italia, forse Turchia, forse Italia. Questa è la prima partita dopo la pandemia. Speriamo bene, dai! Speriamo che sia una grande festa, poi come va la partita va, va, finalmente ci siamo un po' liberati e si può tornare allo stadio, visto che è due anni che non ci vado più. Sono contento. L'Antartide diventa una vera e propria cassaforte in cui verrà conservato il ghiaccio più antico delle Alpi. Questo permetterà agli scienziati di effettuare studi e analisi per prevedere il futuro del clima. La missione che metterà al sicuro il ghiaccio alpino si chiama Ice Memory e verrà condotta da un team italo-svizzero che lavorerà per 5 giorni a 4.500 metri di quota. Il New York Times vince il premio Pulitzer per la copertura sul coronavirus. Il più prestigioso premio giornalistico è stato assegnato al quotidiano della Grande Mela per il servizio pubblico reso durante la pandemia. Ma un altro tema che ha dominato la cerimonia è quello della morte di George Floyd, l'afro-americano ucciso da un poliziotto nel Minneapolis e dalle quale poi si è scatenato il forte movimento antirazzista statunitense. La musica adesso. Orietta Berti, Fedez e Achille Lauro vanno a mille verso il successo dell'estate. È uscito il loro nuovo singolo. Allora in anteprima lo vediamo con Silvio Vitelli e sentiamo anche l'intervista alla cantante Emiliana. Un twist anni 60, proprio come l'ambientazione del videoclip che stiamo guardando in anteprima. Hai risolto un bel problema e va bene così, ma poi me ne restano mille. L'idea era di Fedez. Durante una nostra intervista a Sanremo mi disse guarda Orietta ho una canzone che nei ritornelli andrebbe bene la tua voce. La vuoi ascoltare? Me la feci ascoltare. Andai a Milano per fare una trasmissione con Papi e incisi la canzone. E lui mi disse, Orietta c'è una bomba, c'è anche Achille Lauro. E io ero felicissima e è venuto tutto così spontaneo. Nella cover del singolo i tre sono raffigurati come ninfe di Botticelli. Mille è un brano leggero, ironico e kitsch quanto basta per poter diventare il tormentone dell'estate ormai alle porte. Un'estate in cui, si spera, potremo tornare finalmente a ballare, perché no, a ritmo di twist. Cari amici di TV 2000, vi auguro una buona estate ma soprattutto un buon ascolto di miglia. Ciao! Con questo è tutto, adesso vi lascio alle previsioni del tempo ma rimanete su TV 2000 perché c'è Antonio Soviero con Guerra e Pace. Grazie per averci seguito, arrivederci. Grazie.